Iniziamo oggi questa terza lecture in onore della, in onore, che fa parte delle celebrazioni del trentennale di questa facoltà e oggi io ringrazio veramente Jean-Paul Fitoussi per aver accettato l'invito di venire a parlare qui, in questa facoltà. Una poche parole di presentazione soprattutto per i più giovani perché la maggior parte di noi, di voi anche, conosce bene chi è Jean-Paul Fitoussi, uno degli economisti francesi più noti, non solo più noti tra i francesi ma anche estendendo a tutto il mondo, professore emerito all'Istitut d'Étude Politique de Paris, nota come Sciences Po, insegna anche all'Università Luis Guido Cali di Roma. Perché la Tor Vergata non mi hanno voluto. E' anche membro del Center for Capitalism and Society at Columbia University, ha diretto per vent'anni l'Observatoire français des congiuntions économiques, OFCE, è stato consulente del Parlamento europeo della Commissione Affari Economici e Monetari, membro della Commissione delle Nazioni Unite per la riforma del sistema finanziario e monetario internazionale, co-chairman del gruppo di esperti di alto livello presso l'Ox, sul Measurement of Economic Performance and Social Progress, è uno dei tre redattori del rapporto pubblicato nel 2009 insieme ai due premi Nobel, Amartya Senna e Joseph Tiglitz, sulle limiti delle misure del benessere fondate sul PIL. ci parlerà oggi di questo tema e poi le sue ricerche sono andate avanti. Questo rapporto è stato pubblicato in italiano con il titolo La misura sbagliata delle nostre vite, c'è un'assonanza col titolo di questa lecture evidentemente, collabora, adesso non voglio andare, prende troppo tempo, regolarmente con molti giornali francesi, stranieri, italiani, i suoi studi sulla misura del benessere hanno anche ispirato l'innovazione in Italia, per cui anche ormai nei documenti economici italiani si prevede che siano inclusi vari indici, quali l'indice di disuguaglianza, di povertà assoluta, del reddito medio pro capito, di cui forse si parlerà qui, e quindi questi indici chiamati BES, benessere equo e sostenibili, sono ormai inclusi nella misura, in qualche modo, della crescita economica, del benessere non solo economico e sociale dei vari paesi. Ha scritto, non posso qui stare a citarli, innumerevoli articoli e libri, molti sono stati tradotti in italiano, oltre che nelle lingue più diffuse nel mondo. Tra i vari premi che ha ricevuto in Francia e in altri paesi, cito soltanto, il più importante, credo, in Francia la legione d'onore, la legione d'onore, che ha ricevuto anche un award come commendatore dell'Ordine della Repubblica Italiana. E poi, tra i vari titoli più importanti, lo consideriamo uno dei più importanti amici della nostra facoltà. Questo è un titolo, diciamo, che voglio richiamare, è uno degli animatori dall'inizio del seminario internazionale di Villa Mondragone, che ha portato molto alla nostra facoltà, e quindi adesso io vorrei dare la parola a Jean-Paul Lufitussi per questa lecture, che credo che appassionerà non solo i docenti, ma molti degli studenti che si occupano, e sono soprattutto, è importante che comprendano l'importanza di certi studi, perché misurare la nostra società è in qualche modo anche cercare un indirizzo per la nostra società. Se non misuriamo, si dice sempre, se una cosa non si può misurare, non si misura, è difficile capire se la miglioriamo o no, perché come facciamo a dire se migliora o no? Questo in tutti i campi, e credo che valga anche per l'economia, e valga anche per la società nel suo complesso. Ed è di questo, credo che ci parlerà Jean-Paul Lufitussi. Grazie. Sì, grazie. Visto la mia pigrezia, non posso credere in tutto quello che ha detto che ho fatto. No, non è sicuramente vero. Non te ne sei accolto? Va bene. Sei anche distratto. No, il problema è che è troppo, e questo significa che devo lavorare ancora, e la mia pigrezia aumenta ogni giorno di più. Va bene. Proverò a seguire Giovanni e Luigi Paganetto, che è qua. e sono molto onorato della presenza dell'ambasciatore d'Italia in Francia, qui, che mi ha dato la decorazione di cui parlava, che avrei dovuto mettere oggi, piuttosto che la francese, mi dispiace. e poi tu hai parlato dei premi che ho avuto. questi sono essenzialmente dei premi civili, non per la contribuzione alla scienza. e il premio di cui sono il più fiero, lo dico perché ho una grande modestia, e la medaglia della società per il progresso, che mi è stata data con Sigrid Sen, il presidente della giuria, e Sandro Kenataro. Vabbè, dunque, e poi, e poi, ho avuto una cosa che ricorda il mio naso, il premio picco della mirandola, che mi ha fatto molto piacere, dove Luigi Paganetto ha fatto una cosa bellissima. Beh, allora, sono stato molto onorato, ma no, vallo molto. Vabbè, e così, e così, no, ma... Io a decidere, alla mia età, posso dire la verità. Quando la direi? Altrimenti, no? Arriva un momento dove siamo veramente liberi. E se non godiamo della libertà, quando si farà? Allora, la mia libertà è di dire del male di tutto, dalla teoria economica, della misura economica dei nostri governi. e comincerò dall'Europa, non ha niente da fare, ma ha qualche cosa da fare, perché non sappiamo ancora misurarlo, quello che accade in Europa. Quando vediamo l'Europa, abbiamo un professore, il tedesco, che dà delle lezioni a tutti. E noi ascoltiamo le lezioni, siamo bravissimi per ascoltare le lezioni. Anche quelli che erano contro queste lezioni, si sono messi al lavoro per applicarle. Pensavo a Gospin, o a Prodi, o a chi altro, o a Londra. Nessun di questi tre cappi di governi molto intelligenti non volevano, nessun di loro voleva accettare il fiscal compact, il patto di stabilità, ma l'hanno accettato. L'hanno accettato alla lettera. Questo significa che c'è un problema politico dietro l'Europa, ma c'è un problema anche economico. Il problema economico è che la Germania ha deciso di non avere mai più una politica di stabilizzazione, che significa una politica di domanda. Non avendo una politica di stabilizzazione, tocca agli altri di avere una politica di stabilizzazione. Gli altri paesi, altremando, non c'è stabilizzazione. Allora quello che accade in un sistema di questo genere è che la Germania non ha mai problemi di bilancio, perché non se ne serve del bilancio. E tutti gli altri paesi hanno del problema di bilancio. Questo è un tipo di politico che non possiamo accettare. Il problema è che non l'abbiamo misurato. E la misura è molto importante. Non abbiamo misurato il beneficio che la Germania tira del fatto che la stabilizzazione è fatta dagli altri paesi e le perdite dagli altri paesi per fare questa stabilizzazione. Quando lo faremo allora avremo del cibo a mettere sulla tavola delle negoziazioni. Dunque la misura è importante. La misura è importante e il problema è che si riassunta come il PIL. Il PIL essendo la misura di tutte le cose. Dunque quello che conta in un paese è il PIL. All'inizio il PIL era un indicatore dell'economia mercantile. Niente di più. E sappiamo tutti i difetti del PIL dall'inizio. Perché chi non ha sentito, nella sua gioventù, non parlo per gli studenti, parlo per gli altri, chi non ha sentito che se l'economia è a ricominciare a crescere è grazie alla seconda guerra mondiale. L'abbiamo sentito tante volte. E continuiamo a dire che l'aumento del PIL è una cosa bella per il benessere delle popolazioni. Non abbiamo integrato che, per esempio, un aumento della violenza in società, il terrorismo, il terrorismo, fa crescere il PIL. Si vede molto bene a Parigi perché abbiamo dovuto assumere tanta gente per essere doorkeeper. Non so come si dice. Dappertutto e soprattutto nelle università abbiamo speso un sacco di soldi su tutto il resto. E dunque il PIL è aumentato per il terrorismo. Il PIL è aumentato quando c'era il tsunami in Giappone. Allora che è questa misura che abbiamo a un momento considerato come essendo una misura del benessere? che è questa misura che infatti cresce quando il benessere di cresce. E di cresce fortemente. Una guerra non è niente. Dunque il problema è che bisogna avere un'altra metrica per capire solamente quello che accade all'economia produttiva. Lasciamo da canto il benessere. Per esempio, quanto nella crescita delle golden thirties, come si dice in italiano? Le trante gloriose. Le trante gloriose. Quanto in questo trante glorioso è spiegato dal fatto che abbiamo internalizzato delle transazioni che erano fuori in mercato? L'esodo agricolo. L'esodo agricolo ha reso apparente delle transazioni che erano interne, come l'economia domestica. E dunque l'esodo agricolo che fu un fenomeno molto importante delle anni 50, 60, 70. L'esodo agricolo ha fatto crescere l'economia non perché l'ha fatto veramente crescere. L'ha fatto crescere perché quello che non era misurato è stato misurato. Ma quello anche lo sapevamo perché Samuelson aveva detto una volta che avviene al PIL, mi scusi per il politically incorrect, che avviene al PIL quando un professore sposa la sua donna di servizio. E la risposta è che il PIL decresce. Perché non la paga più? Dunque non c'è più un altro reddito per aumentare il PIL. E' così. Dunque abbiamo pensato che c'è un bisogno enorme di modificare le nostre metriche perché ci sbagliamo su quello che produciamo, su quello che è importante e su quello che non lo è. Perché la produzione pubblica di sanità, di educazione, come è misurata nel PIL? È misurata dalla spesa. Se gli italiani spandano 2 miliardi sulla spesa di sanità, allora la produzione di sanità sarà 2 miliardi. Se gli americani spandano 12 miliardi, allora la spesa di sanità negli Stati Uniti sarà di 12 miliardi. Ma quando osserviamo i sistemi e come funzionano, ci accorge veramente, velocemente, che ha fatto il migliore sistema di sanità. Sono in Italia e in Francia, lo sappiamo, ma non dirvelo a tutti perché c'è un'invidia terribile su questo. Molto più efficiente che in America, dove si spanda molto di più per un risultato molto minore. Dunque, dobbiamo avere un'altra misura della produzione di sanità. Allora, abbiamo degli indicatori, non abbiamo veramente ancora delle misure robuste, ma abbiamo degli indicatori che sono molto utili e credo che nella legge italiana ci sarà un indicatore di speranza di vita. Perché la speranza di vita è un indicatore forte della sanità in un paese. Se la speranza di vita decresce, come negli Stati Uniti, come in vari paesi europei, come in Grecia, non possiamo dire che il benessere cresce. E' dunque questo è un indicatore che ci fa vedere il PIL in una maniera diversa. Un altro indicatore è un indicatore di disuguaglianza. Il PIL è una media e nessuno si riconosce in una media. Forse nessuno guadagna la media. C'è chi guadagna di più e ci sono chi guadagna di meno. Dunque, quello che sappiamo è che la media non cambia quando la disuguaglianza aumenta. Perché basta che un reddito diminuisce di 10 e un altro aumenta di 10 per avere la stessa media. Dunque, come conseguenze, andiamo a dare al PIL un'importanza che non ha. Perché per un governo non è la crescita del PIL che conta. Se la crescita del PIL concerna solamente un per cento della popolazione, o anche meno, un per mille, perché il 95% della crescita nei tre ultimi anni, credo, è andata a un per mille della popolazione americana, credo di non essere sbagliato, ma mi sbaglio spesso, a parte della mia libertà. Posso dire dei monzoni, anche. Dunque, questo significa che noi siamo interessati a che? Siamo interessati alla crescita per i redditi della grande maggioranza della popolazione. Non siamo interessati alla crescita del un per cento il più ricco. Dunque, preferiamo una crescita minore, ma ben distribuita, piuttosto che di una crescita molto alta, ma male distribuita. E questo gli uomini politici l'hanno capito. Questo è un fenomeno nuovo, che ha fatto che il nostro rapporto ha avuto un effetto molto importante. Ha capito, perché qualche volta perdevano le elezioni senza capire perché. Un esempio è quello di Jospin. Jospin è stato premio ministro durante il periodo di crescita il più alto della Francia dalla seconda guerra mondiale. 4%. All'elezione è arrivato dopo Le Pen. Uno schiaffo terribile. Come mai? Ma perché questa crescita era una crescita che la gente non vedeva. concernava veramente una fascia molto limitata della popolazione. Le altre fasce si sono detto, ma questo è un monsonia. Perché lui mi dice che, guarda, il PIL è aumentato del 5% ogni anno? Ma no. Il mio reddito si è ridotto di 2% l'anno. Le due avevano ragione, ma di non avere capito questo, ha fatto che Chirac è stato riletto e che Jospin ha perso le elezioni. E forse è la ragione perché è Sarkozy, che è venuto dopo Chirac, che ci ha chiesto a... che non voleva avere... Forse non sapete, Sarkozy era un presidente francese. Voi conoscete il nome di Macron, sono sicuro. Ma Sarkozy forse è troppo... Ecco, dunque è venuto immediatamente dopo Chirac che ci ha chiesto vorrei vedere chiaro in questo. Da un lato ci sono le statistiche che dicono che il tasso di inflazione è molto basso, dall'altro ho l'agente che mi dice che non è vero, il tasso di inflazione non è stato così alto. e la verità è che le due erano vere, perché il tasso di inflazione dipende dal basket di prodotti che ognuno consuma. e se siamo in un basket di consumo alla scala bassa del reddito, che c'è nel consumo? Ci sono cibo e ci sono benzina. e questi erano i prodotti che hanno i più aumentati negli anni 2007-2008. E dunque era una cosa ovvia che avevano ragione che il potere d'acquisto della gente povera diminuiva. Allora che le statistiche non si vedevano. Dunque il problema è di tenere conto dell'effetto della disuguglianza e ci sono diversi modi e ci sono dibattiti terribili tra gli economisti che preferiscono la corva di Lorenz o altro. e il metodo il più semplice è di fare la distinzione tra la media e la mediana. La mediana è quella, è la cifra che divide in due la popolazione il 50% che guadagna di più e il 50% che guadagnano di meno. Se vediamo, abbiamo le due cifre la mediana e la media e se si produce un divario tra le due cifre questo significa che la disuguglianza aumenta. perché se aumentiamo i redditi dei più ricchi questo non cambia la mediana ma cambia la media perché si aggiunge si fa la divisione e si ritrova sono cose semplici, no? questo l'abbiamo detto in diverse forme perché c'è ancora una parte della questo lavoro continua e stiamo continuando di lavorare con Enrico Giovannini Enrico Giovannini è uno degli elementi importanti della nostra commissione sia di quella di Sarkozy sia di quella dell'Ocse e dunque continuiamo a lavorare su molte cose per finire sulla questione del PIL c'è una cosa che non misuriamo per il momento non possiamo farlo ci sono dei tentativi e che è molto importante in termini di percentuale di produzione e la produzione fuori mercato non mercantile si dice non di mercato non di mercato quello che si fa a casa l'educazione che si dà ai bambini il cibo che si cuoca a casa i giochi che facciamo a casa tutto questo è fuori mercato non si scambia sul mercato non si scambia sul mercato dunque questa ci sono che dice anche il latte materno prodotto dalle donne fa parte di questa produzione non mercantile dunque se contiamo l'abbiamo fatto per qualche anni se contiamo questa produzione non mercantile allora arriviamo a una cifra nell'ordine di 30% del PIL 30% del PIL non 5% non 2% 30% del PIL va bene dunque abbiamo fatto un lavoro dove abbiamo detto ci sono delle migliorazioni da fare ma non buttare il PIL dalla finestra perché il PIL serve per esempio se il PIL non aumenta l'occupazione non aumenta e prenderei il PIL come un indicatore della variazione dell'occupazione dunque ci sono tanti fenomeni come ho detto il terrorismo ha fatto che abbiamo presi assunti davanti molto di più di lavoratori questo significa che il PIL ha aumentato ma questo aumento corrisponde all'aumento dell'occupazione dunque guardiamo il PIL ne abbiamo bisogno serve anche a misurare la capacità che abbiamo per influire sulle affari del mondo non bisogna guardare dall'atto americano per capirlo ma abbiamo bisogno di avere altre metriche e la seconda metrica che abbiamo voluto costruire è una metrica del benessere e qui abbiamo avuto un dibattito forte perché ci sono due concezioni l'Ox prova di fare un misto delle due concezioni e credo il governo italiano anche perché c'è un indicatore subiettivo dunque c'è la concezione obiettiva del benessere e c'è la concezione soggettiva la concezione obiettiva è di chiedersi da che fattore dipende il benessere della gente quello è l'approccio di Amartya Sen e poi direi perché è questo l'approccio di Amartya Sen l'approccio di Amartya Sen che diceva ma quello che importa di più è la salute ovvio e l'educazione perché l'educazione ha tante esternalità positive anche sulle relazioni sociali anche su la partecipazione alla vita della città e alla politica c'è l'occupazione l'occupazione decente c'è l'ugurianza tra gli uomini e le donne non ho bisogno di dire che appunto è importante c'è la sicurezza economica se io ho paura di non avere abbastanza per vivere domani va bene e dunque io faccio una parentesi qui quando si fa una riforma strutturale quello che chiamiamo riforme strutturali che hanno per obiettivo queste riforme strutturali di aumentare l'insicurezza economica la flessibilità la flessibilità del lavoro la diminuzione delle indennità di disoccupazione la diminuzione dell'arco di tempo durante il quale si paga le le indennità di disoccupazione e anche e anche il fatto che cambia il percentuale della spesa medicale che è pagata dall'agente e quello che è pagata dal pubblico questo è una cosa che esiste out of pocket esatto dunque questo significa che aumenta l'insicurezza economica e perché noi abbiamo fatto questo casino scusi su l'insicurezza economica per una ragione semplice è che c'è una cosa che Kenetaro ci ha imparato è che i mercati delle assicurazioni insieme dai mercati delle assicurazioni non è completo dunque bisogna che di avere delle assicurazioni pubbliche che fanno da quello che la gente si sente più libera per agire per innovare per intraprendere per fare studi eccetera eccetera la sicurezza economica è un fattore di produzione c'è la sicurezza fisica anche un determinante obiettivo c'è anche l'ambiente l'ambiente non come capitale ma l'ambiente come fonte di sofferenze per per esempio per i giovani che hanno l'asma la gente non gli piace di avere i giovani che respirano male e dunque è un fattore obiettivo allora questi sono grosso modo i fattori obiettivi che Sen ha sottolineato e è ovvio c'è anche la ricchezza materiale che è un fattore obiettivo ma Sen diceva perché io non voglio aggiungere un indicatore subiettivo un indicatore subiettivo è uno che dice il sentimento della gente sulla soddisfazione che tira della sua vita allora l'argomento è di dire la gente sa meglio di te se è felice o non felice se ha una vita soddisfacente o non soddisfacente il principio lui dice avete ragione ma vado a contarvi una storia vera di un'idagine che ho fatto in India e sono andato in un paese dove le come spesso in India gli uomini non lavoravano e le donne lavoravano un sacco e così l'ugolianza tra gli uomini e le donne in India e dunque in questo ha fatto un'indagine per sapere il grado di benessere dei due gruppi le donne e gli uomini le donne che lavoravano ma veramente 15 ore al giorno si declaravano soddisfatte non si vedi not complaint non si lamentavano della malattia o delle cose di questo genere ma gli uomini che erano tutta la giornata al caffè giocando alle carte erano tutti stanchi ma veramente estremamente stanchi e si dichiaravano tutti malati allora lui ha detto che faccio con questo dico prendo un indicatore del benessere e dico che le donne hanno un benessere molto più alto degli uomini immagina quello che sarebbe la conseguenza di un tale affermazione in termini di politiche pubbliche le politiche pubbliche dicono allora bisogna aumentare la cura la spesa per gli uomini e diminuire quella per le donne perché le donne sono molto contante eccetera dunque lui non gli è mai piaciuto questo approccio subiettivo e credo che ha anche qualche cosa c'è un altro esempio che è fornito da uno dei da uno dei costruttori di questo sistema che è Daniel Kahneman Daniel Kahneman è un psicologo che ha avuto il premio Nobel di economia non è frequente è la prima volta che succedeva e dunque Daniel Kahneman aveva fatto un studio e ha veramente fatto un studio magnifico prendendo due paesi l'uno in America l'altro in Francia ma che erano uguali quasi uguali questi due paesi in termine di average tenore di vita in termine di verdura tutto quello che vuole di cibo e lui ha chiesto alle donne americane due domande quanto tempo passevano per l'educazione dei loro figli e loro hanno risposto cinque ore per giorno e quanto passate di tempo per cucinare loro dicevano cinque ore al giorno e la questione seguente era vi piace no la risposta è no non ci piace di educare i bambini non ci piace di fare la cucina poi hanno interrogato i francesi e hanno cominciato alla rovescia che sono le le più belle cose che fate e loro hanno risposto educare i bambini cucinare è un piacere enorme e poi quanti tempi passevate per questo con i bambini due ore al giorno e per cucinare un'ora e mezzo ma il problema è che si farebbe sulla base di queste indagini subiettive si può avere delle conclusioni false perché c'è un problema di coerenza temporale anche perché queste stesse donne che hanno detto che soffrivano molto dall'educazione e della cucina quando sono state riinterrogate 20 anni dopo la domanda era quali sono i momenti più felici della vostra vita loro hanno detto raising children and fare la cucina dunque è una cosa che non è ancora chiara continuiamo a lavorare nel nuovo rapporto abbiamo un capitolo su il benessere subiettivo perché ci sono molti progressi che sono stati fatti ma come ve lo immaginate è una ricerca che costa molto perché è fatta sulla base di sondaggi e ci sono pochi che hanno la possibilità di fare tutti questi sondaggi allora utilizziamo il big data ma l'uso del big data non si dà il stesso risultato che le risposte alle indagini fatte dagli istituti di statistiche sono stato lontano termino da una cosa qual è era il terzo problema che abbiamo voluto studiare è quello della sostenibilità lo so che la sostenibilità è diventata la tarte alla creme come si dice la tarte alla creme tutti vogliono essere sostenibili va bene sviluppo sostenibile finanze sostenibili eccetera eccetera ma il problema è di sapere di che si parla noi abbiamo detto di che si parla con la sostenibilità ma si parla della capacità che abbiamo noi nostra generazione a lasciare alla generazione seguente lo stesso livello di capitale di cui abbiamo goduto niente di più niente di meno ma il capitale deve essere capito nel senso lato nel senso largo lato è largo è la stessa cosa no va bene nel senso lato e significa capitale umano capitale sociale capitale politico per me è molto importante questo significa il grado di adesione alla democrazia vediamo che questo grado di adesione alla democrazia diminuisce molto in Europa e in America questi giorni quando si vede quello che accade nelle elezioni quando si vede quello che accade in certi paesi dell'est la democrazia illiberale dunque il grado di adesione alla democrazia si riduce e ovvio c'è il capitale economico che sia pubblico o privato e poi c'è il capitale naturale capitale naturale non sappiamo misurarlo ma abbiamo degli indicatori fisici dunque diciamo che non possiamo misurare tutto questo con un solo numero lo facciamo con un dashboard che consente di vedere tutte le attività ma se lo facciamo ha delle conseguenze enorme sulle politiche quando si dice che il capitale umano è molto importante che è la conseguenza di una politica di austerità che non è presa in conto e il suo effetto sul capitale umano significa l'aumento della disoccupazione l'aumento della disoccupazione quando è lunga ammazza il capitale umano e non lo contiamo come costo della politica contiamo come risultato della politica la riduzione del disavanzo pubblico dunque siamo contentissimo quando il debito il disavanzo pubblico diminuisce di un punto senza sapere se il capitale umano non ha diminuito di 10 punti dunque bisogna che sappiamo misurarle non è per prendere le decisioni del governo ma così come il governo sa quello che fa quando prende una decisione e conta su tutti questo fattore mi scusi di essere stato così lungo grazie Gian Paul per questo scusus per quanto ci hai detto io prima dare la parola a Leonardo Becchetti per alcune considerazioni e poi agli studenti per qualche domanda solo una considerazione da parte mia anzi una e mezza che riguarda un po' perché in realtà i governi pongono l'accento e si concentrano soprattutto sul problema del PIL in ultimi tempi e perché sono poco fiducioso che anche se mettiamo nei documenti alcuni altri indicatori in realtà in realtà i governi continuano a guardare solo al PIL non che non debbano guardare come tu hai detto al PIL perché qual è stato il centro per il 70-80% del dibattito di policy in Europa soprattutto negli ultimi 20 anni di cosa si è parlato si è parlato di bilancio pubblico e le tasse sono sul PIL quando io sposo la donna di servizio non soltanto scende il PIL ma non pago più contributi e per di più se noi ipotizziamo che i ricchi paghino le tasse che devono pagare se l'aggiunta di PIL va ai ricchi invece che ai poveri ci sono più tasse perché le aliquote sono più alte ma i numeri dei poveri sono più grandi sì ma se noi incrementiamo di 10 miliardi il PIL che si concentra su alcune persone che appartengono alle fasce alte e non i 100 miliardi 100 miliardi uguali li distribuiamo tra la massa dei poveri o più poveri con meno reddito prendendo un poco per volta poiché i ricchi dovrebbero pagare 40% dovrebbero almeno pagare un'aliquota più alta ci sono più tasse che rispetto ai poveri ora non dico che ci sia questo atteggiamento malevolente diciamo dei governi ma è chiaro che le cose che tu dici il problema della misura del benessere e la misura del PIL è un problema che si pone come entrano nella determinazione poi delle policy se il punto centrale per esempio in questi vent'anni è stato come controllare il bilancio pubblico è chiaro perché fanno questo perché non hanno un indicatore di ricchezza e così come io vorrei dire chi è ricco in un'assemblea di persone vedendo solamente il suo debito questa funziona meglio la vuoi cambiare va bene cado abitualmente alla fine dei tutti dunque dunque il problema è che non abbiamo indicatore di ricchezza e il debito non ha nessun significo in termine di ricchezza posso essere esattamente la rovescia i più indebitati sono abitualmente i più ricchi e dunque come non c'è questa valutazione della ricchezza abbiamo un indicatore del patrimonio pubblico il solo che abbiamo nei paesi dove non c'è una wealth accounting abbiamo solamente un indicatore del patrimonio pubblico che è il debito pubblico ma anche anche non abbiamo l'abitudine perché quello che è successo nella grande crisi non era il debito pubblico era il debito privato e questo era noto da tutti tutti lo conoscevano allora perché non ne hanno tenuto conto allora la tassa sui ricchi allora tu sei un utopista grandissimo perché i ricchi hanno la possibilità legale di votare con i piedi e di andare altrove senza neanche muoversi non c'è bisogno di votare con i piedi senza neanche muoversi senza neanche muoversi e poi altro che ti va e poi quello che funziona in meglio in questa Europa è la concorrenza fiscale che ha preso come ultima misura Macron ha soppresso la tassa su le uscite di capitale dunque questo significa che non si può tassare i ricchi allora quando abbiamo bisogno di denaro tassiamo le classi medie e i poveri sono i grandi numeri e qui abbiamo perché io ripianto di non essere ricco per questo mi fa male di pagare tante tasse essendo povero io rapidissimamente dico due o tre cose sul tema di Jean Paul innanzitutto Jean Paul ha detto una cosa importante ha detto i primi a preoccuparsi di misurare il benessere in modo diverso devono essere i politici quando noi abbiamo presentato il rapporto mondiale sulla felicità tre anni fa a Roma con Jeffrey Sachs e Richard Layard l'Irlanda era appena uscita dalle elezioni il governo irlandese aveva il 6,2% di crescita e ha perso le elezioni dopo sono andati a approfondire il giorno dopo il 24 ore esce con un articolo dove dice ma togliamo l'illusione fiscale le aziende che vanno a mettere la sede in Irlanda ma non producono nulla in Irlanda il PIL scende al 3% andiamo a guardare se la mediana la maggioranza delle persone ha visto migliorare le proprie condizioni di vita in termini di accesso a salute e istruzione ha visto peggiorare le proprie condizioni di vita ecco perché oggi i politici sono molto attenti tra l'altro misurare il benessere misurare la felicità è molto importante adesso torno anche sul soggettivo il soggettivo è molto importante perché porta in campo una dimensione che non esiste negli indicatori oggettivi che sono le aspettative il soggettivo ci insegna a misurare le aspettative delle persone la differenza tra realizzazioni e aspettative io posso anche fare una performance straordinaria ma se le aspettative delle persone crescono ancora di più sono infelici quindi impariamo a misurare le aspettative tutti misurano il soggettivo anche in azienda le aziende non guardano solo alla variazione dei consumi ma guardano la customer satisfaction il soggettivo è importante perché ci serve a capire delle cose se studiato bene cioè il messaggio non ideologico è dobbiamo approfondire gli indicatori dobbiamo capirli dietro gli indicatori ci sono un sacco di problemi ne cito alcuni per esempio il problema del PIL è che misurare a prezzi di mercato vuol dire implicitamente dire che il valore di una cosa dipende dal rapporto della domanda e offerta e non è assolutamente così facciamo un esempio quanto ci metteva un insegnante di scuola a guadagnare quello che guadagnava Richard Fudd l'amministratore delegato della Lehman Brothers l'anno del fallimento di Lehman Brothers doveva iniziare a lavorare da quando secondo voi? non so dal diciottesimo secolo dall'età dei sumeri dall'età dei sumeri allora il punto qual è? vale più qual è il valore maggiore? il valore di un insegnante di scuola o quello di Richard Fudd quell'anno? allora il primo problema è questo che a parte il fatto che il PIL non misura neanche tutto a prezzi di mercato perché è una salsiccia ha dentro diciamo il valore dei dipendenti pubblici e sanità è misurato al costo no? per esempio attenzionali sì l'altro esempio lui diceva è famoso quello che diciamo esposi la domestica eccetera ma altro esempio interessante è pensiamo alle belle scene che facciamo dal professor Paganetto un po' di tempo fa ognuno porta qualcosa no? il valore di quella convivialità è molto alto vado da solo al ristorante e il PIL aumenta di più perché ovviamente pago di più pago di più allora chiaramente come dice come dice Kennedy il PIL misura tutto è molto duro il famoso scorso del 68 agli studenti del Kansas il PIL misura tutto eccetera ciò che rende la vita degna di essere vissuta non fa l'elenco delle cose positive da cui poi verrà fuori il good PIL e il bad PIL detto questo un altro esempio perché bisogna misurare meglio oggi per esempio lui ha detto giustamente le medie non ci dicono niente ma qui siamo nel paese in cui le medie non dicono proprio nulla cioè cosa vuol dire una media in Italia? cosa vuol dire il dato medio di disoccupazione in Italia quando abbiamo tre regioni in piena occupazione dove ci sono 200.000 posti di lavoro vacanti e abbiamo il sud non vuol dire niente e cosa vuol dire misurare il tasso di disoccupazione oggi? quando abbiamo gli involuntari part-timers quando abbiamo i work poor quando abbiamo gli scoraggiati allora noi siamo ancorati a degli indicatori statistici che ormai non hanno più senso e dobbiamo imparare ad approfondire questi indicatori l'altra cosa tu hai citato giustamente io ricordo un vecchio lavoro che abbiamo fatto l'inflazione va pesata la vera inflazione è quella del tuo paniere e il paniere è molto diverso a seconda delle classi di reddito le classi di reddito basse consumano molti più beni più beni di consumo beni alimentari eccetera e quindi chiaramente hanno un paniere totalmente diverso comprano in periodi diversi eccetera eccetera per non parlare della qualità dei beni che acquistano altra cosa cosa secondo me è molto bello il discorso del debito pubblico è il fatto che non c'è la ricchezza io uso un aforisma dico per me il vero povero è colui che non sa godere di ciò che non possiede perché è tanto superiore la bellezza pubblica la ricchezza pubblica rispetto alla ricchezza privata che una persona che sta sempre lì nel suo orticello è veramente un povero perché è uno che molto meglio un giovane che fa fare l'interrail che si gira l'Europa quindi quanto vale la ricchezza pubblica eh e questo per fortuna nel BES c'è nel BES abbiamo due indicatori addirittura due indicatori abbiamo paesaggio e territori e abbiamo i beni naturali dei 12 indicatori del BES e dei 134 indicatori l'Italia devo dire molto avanti quest'estate eravamo in Messico all'International Economic Association abbiamo detto a Joe Stigl guarda che ti sei dimenticato l'Italia è l'unico paese dove il documento di economia e finanza deve valutare l'impatto delle proprie politiche su prima 4 indicatori fino all'anno scorso quelli che hai citato tu Giovanni adesso sono diventati 12 e c'è l'aspettativa di vita perché io voglio sapere qual è l'effetto delle politiche di spesa sanitaria sulla mia aspettativa di vita in un periodo in cui ci sono farmaci salvavita antitumorali in cui fare le analisi eccetera eccetera e mi immagino che e voglio modelli che lo calcolino e mi immagino che l'effetto sia molto importante quindi molto secondo me la sicurezza e tutto quanto usiamo un mix di indicatori soggettivi tema molto delicato dobbiamo misurare il soggettivo sì il soggettivo è importante ci serve a capire che ci siamo persi qualcosa per esempio nel rapporto mondiale sulla felicità da 2-3 anni noi tiriamo fuori questo dato piace molto a Gionelli è un bel dato secondo me di sintesi il 75% delle differenze di felicità tra paesi sono spiegate da 6 fattori reddito salute libertà di iniziativa assenza di corruzione beni relazionali e gratuità è molto interessante questo attraverso gli indicatori soggettivi scopriamo un sacco di cose quest'anno c'è stato uno studio bellissimo perché il tema dei migranti perché accogliere non accogliere beh c'è uno studio che non piace molto ai sovranisti e ai populisti che fa vedere che la felicità dei migranti i migranti perché si muovono da dove è nato il World Happiness Report è stato fatto breve volta dalla CIA perché voleva i dati per capire i flussi migratori perché i migranti i movimenti delle persone lucrano sui differenziali di felicità attesa e felicità nel paese di origine e al netto dei costi di transazione e quindi cosa fa vedere questo studio di quest'anno di Eliwell e altri che la felicità dei migranti converge alla felicità media del paese di origine immediatamente quando arrivano quindi le aspettative dei migranti sono razionali cioè loro si aspettano di e quindi per dire ci sono un sacco di cose interessanti cosa secondo me c'è di più importante chiaramente gli errori che non dobbiamo fare sono usare un indicatore soggettivo come indicatore di benessere non ha senso perché cadiamo in questo problema psicologico delle aspettative eccetera non dobbiamo pensare che siccome misuriamo in questo modo il nostro obiettivo è la decrescita non ha senso non è che è quello l'obiettivo cioè perché immediatamente no ti identificano no il nostro obiettivo è la felicità delle persone che include ovviamente i valori economici quindi il PIL è importantissimo l'occupazione è importantissima cosa abbiamo scoperto come si fa questo abbiamo detto mettendo il BES nel DEF ma anche a livello micro sempre di più noi insegniamo nelle università anche in questa università lo SROI cioè i progetti di investimento vanno valutati non solo per il ritorno on investment ma per il ritorno sociale del progetto quindi imparare a misurare il valore sociale dei progetti che per esempio è oggetto dei bandi delle fondazioni e tutto quanto quali sono le io dico concludo con tre cose fondamentali che secondo me io ho imparato dagli studi sulla felicità che sono identità generatività e bene comune cioè se io dovessi dire qual è la componente principale delle sei che vi ho citato prima che è dietro i migliaia di dati che ho visto in tutto il mondo è la generatività che spiega benissimo quello che ha detto Sean Paul dell'India ma è chiaro che le donne sono felici e gli uomini no perché come dice John Stuart Mill se cerchi la tua famoso la più grande aforisma sulla felicità secondo me se tu cerchi la tua felicità di per sé non la trovi ma se fai qualcosa di utile per te e per gli altri trovi la tua felicità lungo la strada la componente principale della felicità delle persone è la generatività se la nostra vita è generativa siamo soddisfatti la nostra vita ha un senso poi chiaramente l'eccesso di lavoro non va bene quindi le polisi stiamo attenti la polisi è far lavorare far lavorare agli uomini non dare più soldi è diversa la polisi farli uscire dal bar che poi è quello insomma il motivo per cui Yunus i soldi gli dava alle donne e non agli uomini in Bangladesh quindi la generatività secondo me è un fattore chiave che nei prossimi anni mi aspetto sarà studiato molto di più l'altro grande tema è quello della identity cioè un lavoro interessante che stiamo facendo adesso è la soddisfazione di vita delle persone dipende anche dall'ambiente culturale in cui vivi se tu vivi in un paese dove c'è non so stress for success dove c'è se tu sei un solidale e vivi in un paese che non lo è stai male quindi è molto interessante questo fatto che c'è una parte dell'economia che va assolutamente sviluppata molto di più penso a Akerlof e Kranton economics of identity e a Lowenstein l'uomo prima di essere un massimizzatore di utilità è un cercatore di senso cioè la prima operazione che noi facciamo è far collimare il senso che diamo alle cose e se quel senso che noi diamo alle cose non coincide con quello che sta fuori noi stiamo male Akerlof fa l'esempio di quello che va a West Point che fa un sacco di cose strane ma perché si deve creare il senso del marine oppure quello che fa l'esempio di quello che si veste da donna non essendo esempi che fa lui lui dimostra anche però che diciamo la cerca dell'identity bisogna influenzare sull'identity dimostra come gli studi come perché gli studenti afroamericani nelle università nelle scuole fanno male a scuola perché devono andare male certo ma non sto dicendo che l'identity è una cosa buona di per sé sto dicendo che dobbiamo capire l'identity per esempio senza capire l'identity non capiamo il terrorismo per esempio perché è chiaro che un terrorista non è un homo economicus che massimizza la sua utilità è uno che si conforma ad un'identità quindi l'identity secondo me è molto importante per esempio faccio un altro esempio se tu sei di un partito che non è quello di quelli che hanno vinto le elezioni io sono sicuro che la tua soddisfazione di vita diminuisce dopo le elezioni perché ti senti di vivere in un paese dove l'identità politica sta andando in una direzione diversa della tua identità comunque dicevo l'identity è molto importante perché è importante il soggettivo questa è una cosa che diceva anche Enrico Giovannini mi ricordo spesso perché il soggettivo non sarà da usare come indicatore fondamentale ma il soggettivo influenza gli indicatori oggettivi c'è uno studio recente sull'Ice Sense sugli over 50 in Europa share dove le persone che dichiarano un livello di senso della vita più basso hanno una mortalità molto più alta quindi l'Ice Sense ha effetti sociali ha effetti sulla salute quindi sono indicatori importanti l'ultima cosa che voglio dire che secondo me e qui alla fine che idea di società viene fuori secondo me deve venire fuori perché qual è l'obiettivo degli obiettivi secondo me l'obiettivo degli obiettivi è quello che è il tesoro sta nell'articolo 3 della nostra Costituzione l'articolo 3 della nostra Costituzione ha un concetto che si chiama bene comune che dice è compito della Repubblica cioè di tutti noi non del leader dello Stato creare le condizioni affinché le persone possano realizzarsi e questo fu la confluenza di tre scuole di pensiero quella cattolica quella liberale e quella socialista perché c'erano dentro le varie opportunità la rimozione dei lacci e laccioli e l'idea di bene comune allora io credo che il meta il meta indicatore di benessere almeno per le polisi è costruire società generative dove le persone possano essere generative common goods quindi io credo che in futuro su queste a meno queste sono le tre suggestioni secondo me su cui si dovrà lavorare molto generatività common goods e capire fino in fondo le conseguenze di economic soft identity perché noi economisti partendo all'uomo ma come se noi partissimo dal secondo tempo la persona si alza la mattina e deve si alza se dà un senso alle cose che fa poi dopo prende i soldi e va al supermercato a comprare delle cose qui siamo al budget del consumatore allora è come se noi economisti abbiamo iniziato dal secondo tempo dobbiamo capire anche il primo tempo se vogliamo risolvere bene il secondo grazie possiamo dedicare qualche minuto a domande dalla sala vedo uno studente fuori corso ecco professor Piersanti fuori corso dovrei pagare un bel po' di tasse arretrate comunque innanzitutto mi scuso con il professor Fidussi per essere arrivato in ritardo e me ne do un bel po' ma l'intervento di Giovanni e la sua risposta mi ha forzato a questo intervento che il PIL sia un indicatore inadeguato per mi rifaccio naturalmente al problema della sostenibilità del debito in particolare del debito sovrano sia un indicatore inadeguato di misura di sostenibilità è un fatto assodato nella letteratura tant'è vero che molti hanno cercato indicatori alternativi ma questi indicatori alternativi condividono in un certo senso tutta una serie di difetti del rapporto debito PIL per cui non hanno risolto granché il problema in un adesso non voglio farmi pubblicità ma in un lavoro che sta per apparire o è apparsa su Macroeconomics Dynamics noi abbiamo dimostrato perché l'indicatore debito PIL è un obbroprio sul piano scientifico perché è almeno per due ragioni basilari perché rapporta uno stock a un flusso e questo dal punto di vista della teoria della misurazione non è coerente sebbene ovvie relazioni esistono tra stock e flussi e perché l'indicatore debito PIL è incoerente con quelle che noi chiamiamo le condizioni di trasversalità che si applicano nei modelli di ottimizzazione dinamica intertemporale dove le condizioni di trasversalità si applicano sulle variabili di stock e non di flusso bene utilizzando un modello di crescita indogena dove la politica fiscale svolge un ruolo chiave sulla crescita di lungo periodo e dove gli aspetti intertemporali della politica fiscale vengono esaminati in maniera ovvia e naturale viene fuori che è l'indicatore appropriato coerente con questo tipo di modellistica è l'indicatore debito ricchezza quando noi abbiamo applicato questo indicatore ai G7 sono venuti fuori dei risultati diciamo piuttosto differenti da quella che è l'opinione comune ed è venuto fuori per esempio che Germania l'indicatore è un indicatore che le cui prime indicazioni si trovano in un lavoro di Bruce e Turnoschi del 99 ed è un indicatore che è in grado di misurare qual è la correzione dal lato delle entrate che bisogna fare per quanto riguarda la posizione fiscale di un governo dato il rapporto debito ricchezza di oggi e sommando a questo i valori scontati dei surplus o deficit futuri attesi se questo indicatore è minore o uguale a zero allora noi abbiamo che la posizione fiscale del paese è perfettamente sostenibile se compreso tra zero e il valore del debito corrente è debolmente sostenibile se è maggiore del debito corrente è chiaramente insostenibile applicando questo indicatore viene fuori che Italia e Germania hanno l'indicatore dal 99 al 2013 minore o uguale a zero mentre insostenibili sono Francia e Giappone a ok vabbè insomma organizzeremo un seminario molto interessante questo finisco qua non mi voglio di nuovo volevo dire che quando si adoperano cioè con questo indicatore la pittura che viene fuori è molto diversa perché i debiti sovrani in rapporto alla ricchezza in media sono un quinto invece di essere molto vicini al 100% superiore al 100% per molti paesi G7 quindi abbiamo un quadro molto diverso e molto meno drammatico di quello che ci viene raccontato grazie scusate la lunghezza dell'intervento grazie se c'è qualche studente in corso è uno studente in corso che vuole intervenire buongiorno no io così c'è una cosa che mi tormenta quando penso che tante nazioni hanno sottoscritto l'agenda 2030 però ci sono degli studi c'è tutta una letteratura su questi temi però ho visto solo l'Italia inserirli nel documento di economia e finanza è comunque un fenomeno poco conosciuto e cioè gli stati tendono a prendersi tempo su questi temi che dovrebbero essere invece centrali acquisiti nelle loro politiche e mi chiedo come si può come si può fare per sensibilizzare di più farlo entrare al centro cioè questo è un tema che a me una domanda che mi mi tormenta perché se sappiamo e abbiamo gli strumenti ancora stiamo in ritardo? allora rispondere a tutte le domande e fare una una rimarca su quello che tu hai detto quando tu parli di identity tu sai come ti risponde un francese laicity laicità laicità quando uno parla di identity un francese parla di laicità dunque bisogna definire esattamente quello che mettiamo in identity per non perdere il bene comune che è nella laicità non è nell'identity il bene comune su quello che e sul resto sono totalmente d'accordo come te con te quello che ha detto il professore Pier Santi Pier Santi mi fa ricordare qualche cosa che negli anni 70 80 sono andato all'università europea di Firenze e e poi abbiamo avuto negli anni 90 un grande dibattito con il governatore della banca tedesca della banca centrale tedesca della Bundesbank e del ministro dell'economia di questo periodo dimenticato il suo nome va va bene come e allora lui mi diceva non possiamo fare l'Europa così perché non vogliamo avere l'Europa Club Med e gli ho detto c'è una cosa che tu non hai capito che se l'università europea fosse a Frankfurt non sarei mai andato ma perché perché la ricchezza che trovo a Firenze è talmente più grande di quella che trovo a Frankfurt che non c'è paragone per il mio benessere è molto meglio di essere a Firenze e e poi se facciamo veramente un studio del patrimonio italiano e prendiamo il debito sul sulla ricchezza dovrebbe essere niente ma per la Germania è molto più elevato perché quale ricchezza hanno me lo chiedo ancora hanno delle opere d'arte sicuramente come tutti i paesi ma in paragone all'Italia buongiorno la mia domanda è quanto è possibile che i governi per esempio istituiscano dei mali ad arte per fare in modo da far crescere il pil per esempio prima di tutto ho dimaticato di rispondere alla sua domanda signora perché perché non passiamo al lavoro no perché lei sa che per fare un sistema di contabilità nazionale ci è voluto un tempo grande e c'è una cosa che è molto importante e che pone già problemi è che un sistema è interessante se costante di paragonare i paesi allora oggi con il sistema di benessere che proviamo di costruire bisogna che questo sistema sia condiviso da tutti gli istituti di statistica della pianeta per essere operazionale altrimenti non lo sarà altrimenti ognuno farà il suo sistema e esistono già abbiamo quello del bouton abbiamo quello dell'Inghilterra abbiamo quello della Germania abbiamo quello della Francia abbiamo quello dell'Italia che è il più avanzato ma essere più avanzato significa anche essere molto diverso degli altri dunque dunque c'è un vero problema alla sua domanda devo confessare che non ho capito per esempio il tuo esempio ha inizio l'affetto del terrorismo immagino ovviamente il terrorismo non è un male che possono portare i governi ma magari ci sono degli altri mali non so magari delle misure quasi fatte apposta per aumentare l'inuguaglianza tagli da portare un incremento del fila nonostante siano consci del male ma di questo ne teniamo conto di questo ne teniamo conto è ovvio quando si prende in una misura di riduzione della protezione sociale sappiamo bene che questa è una misura che va a fare crescere la disuguaglianza forse decrescere una parte dei redditi e crescere l'altra parte faccio un esempio ma per l'istante è segreto perché sono facendo una ricerca su di questo ne ho parlato con Luigi ma guardiamo che è la la parola che riviene sempre in Europa la parola è la competitività no bisogna fare crescere la competitività fare crescere la competitività è sinonimo di fare decrescere il costo del lavoro è sinonimo e poi i salari se è possibile e poi quando uno guarda la sharing dei redditi tra i profitti e salari vede che questo va giù la cota dei salari va giù questo significa che la cota dei profitti va su ma che il programma della competitività viene dai profitti non dai salari ma nessuno ha detto questo è quello che dirà quello meglio che va in Australia io direi di di terminare qui questo incontro ringrazio ancora Gian Paul Fitussi di questa discussione ovviamente anche Leonardo Becchetti ma tutti voi tutti coloro che hanno fatto le domande e tutti coloro che sono qui io credo che continueremo quest'anno a promuovere queste lecture che vedo che sono partecipate e interessanti questa è la terza abbiamo avuto Ignazio Visco il 16 di aprile Giuliano Amato il 10 di maggio e continueremo in vera Edmund Phelps a fare una lecture per la facoltà qui il 26 di giugno e poi continueremo con altri studiosi io spero sempre una partecipazione da parte degli studenti perché la facoltà è soprattutto per gli studenti e quindi queste discussioni di alto livello non devono essere confinate in seminari ma devono essere portate alla conoscenza di tutti perché si parla della oggi si parla della misurazione della power life e quindi anche della vostra vita parliamo della vostra vita non parliamo soltanto di teorie economiche grazie 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 a tutti